Cuore di capitano. Ci prova con tutto lo spirito di appartenenza che connota un leader, Francesco Casagrande, a tirare sugli Sharks dalle secche di un inizio stagione dissastroso e che non lascia intravedere nulla di buono. La sesta sconfitta in altrettante gare di campionato, arrivata domenica ad opera di Piacenza, ha sprofondato nel baratro l'intero ambiente rosetano. L'organico non all'altezza, per di più falcidiato dagli infortuni che impediscono anche di svolgere normali sedute di allenamento, impone alla società del presidente Cimorosi, sempre nel mirino di buona parte della tifoseria, di correre ai ripari sul mercato. Ma non è facile pescare l'elemento che possa fare la differenza. Continua a rimanere aperto uno spiraglio per Anthony Raffa, il playguardia italo-americano che potrebbe ancora essere lasciato libero dal Luke Oil Sofia. Ma non potrà essere lui da solo il salvatore della patria senza una scossa da parte di tutti i componenti del roster, specie di chi finora ha deluso le aspettative, leggi da Rell Combs. E allora ecco che il capitano Casagrande, con un posto su Facebook, prova a scuotere l'ambiente in vista della trasferta di Bergamo, che precede di Sharks di due punti, in programma sabato sera. Innanzitutto mi voglio scusare con tutti quelli che ci seguono in ogni gara, casa e trasferta, scrive Casagrande. Il momento è delicato e siamo consapevoli, io per primo, di quello che si è visto recentemente. Ovviamente dobbiamo dare una sterzata in positivo a tutti noi, perché così non può andare. Roseto è la piazza che mi ha fatto brillare gli occhi prima di gara 3 contro la Virtus Bologna. Roseto è la piazza che vive di pane e basket e senza questo non sarebbe uguale. Anche noi però abbiamo bisogno di Roseto, aggiunge il capitano Biancazzurro. La forza di Roseto è stato sempre il grande collettivo e la grande unione che si crea tra squadra e città. Remiamo con tutte le forze verso la stessa direzione ed è solo così che possiamo toglierci le soddisfazioni che tutti meritiamo. Un vero e proprio appello all'unità, arrivato in occasione dell'annuncio dell'autosospensione della curva Nord dopo i Daspo a 16 ultra coinvolti negli scontri di Forlì. Insomma, un momentaccio.